Musica Ci troviamo presso la scuola statale Brasile che si trova nel terzo municipio del comune di Roma. Qui a inizio oggi la campagna di prevenzione di odontoiatria rivolta a tutti i bambini, le scuole elementari di tutto il Lazio, in particolare nelle terze classi. Qui abbiamo la dirigente, la dottoressa Nicoletta Grandonico. Dottoressa, di questa esperienza quali aspetti pedagogici ed educativi pensa che siano rilevanti? Ma anzitutto io devo rispondere ringraziandoti di aver scelto la nostra scuola per la presentazione di questo importantissimo progetto. Ovviamente è un progetto di prevenzione, è un progetto di educazione sanitaria che si va a collocare in perfetta sintonia con la progettualità della nostra scuola, della progettualità del 79esimo circolo che la nostra scuola sta portando avanti da anni. Infatti noi nel piano dell'offerta formativa abbiamo inseriti dei precisi percorsi progettuali di educazione alla salute che incominciamo a partire dalle classi seconde. Quindi noi dalla classe seconda incominciamo a trattare queste problematiche di prevenzione centrate in particolar modo sull'educazione alimentare. Ovviamente questo progetto si colloca in perfetta continuità con quanto noi da anni stiamo portando avanti. Quindi ha delle rilevanze assolutamente, estremamente importanti per quanto riguarda l'ottica della prevenzione che quindi non può che iniziare dalla scuola primaria. Perché quanto più un intervento è precoce, quanto più va a segno nel raggiungimento degli obiettivi. E mi permetto anche di dire che ritengo l'esperienza estremamente importante in quanto organizzata in un'ottica di rete. Quindi un progetto che vede protagonisti più componenti, nel caso specifico la Regione Lazio, la ASL, la scuola e chiaramente il coinvolgimento delle famiglie. Quindi io spero anche che nell'incontro odierno di presentazione di questo progetto il progetto possa essere adeguatamente pubblicizzato nei confronti dell'utenza. Devo dire che noi abbiamo un'utenza estremamente collaborativa. Ha sempre collaborato con noi tutta la componente genitori nel corso di questi anni e probabilmente è proprio questo un fattore di successo, di grande successo. Perché questa scuola, devo dire, insomma, con una, consentitemi, una buona dose, un pochettino di orgoglio, sta funzionando veramente bene. E noi come scuola abbiamo portato avanti, e stiamo portando avanti, anche in qualità di scuola capofila da anni, una serie di iniziative progettuali, ripeto, in rete, come quella di oggi. E noi, per la nostra esperienza, abbiamo visto che è la strategia vincente. Cioè l'apertura della scuola al territorio, alle altre agenzie educative, alla progettualità del comune, della provincia, della regione, dell'ente locale, quindi in generale, anche del privato sociale. Quindi la vedo in perfetta sintonia con tutto quello che è stato portato avanti e quindi, senz'altro, sarà un'iniziativa che avrà pieno successo. Il dottor Luciano Ralli è il coordinatore per la realizzazione del progetto di prevenzione tontoiatrica in tutte le scuole dell'azienda sanitaria locale Romà. Il progetto, come è noto, prevede interventi specifici nell'ambito delle scuole, in particolare nelle classi. Dottor Ralli, qual è il progetto e come si articola? Dunque, il progetto è un progetto che è stato promosso dalla regione Lazio e riguarda tutte le scuole, le terze elementari della regione. Coinvolge tutte le aziende sanitarie locali del Lazio ed è un progetto che si articola con una serie di interventi mirati sulla popolazione scolastica della terza elementare, quindi i bambini di sette anni, che si trova in una condizione odontoiatrica particolarmente importante e particolarmente indicativa di futuri problemi odontoiatrici. Questo tipo di progetto ha delle fasi, una prima che riguarda le visite che vengono fatte presso gli istituti scolastici e una successiva applicazione di metodiche preventive che vengono effettuate presso i presidi ospedalieri oppure i presidi di zona dell'Aso. Diciamo che utilizziamo due tecniche che sono abbastanza riconosciute dal punto di vista internazionale, che sono la sigillatura dei solchi profondi e le metodiche di fluorazione. Queste visite sono molto importanti perché ci possono consentire di verificare tutta una serie di patologie che poi si potranno presentare nelle fasi successive. Direi che è molto gratificante per me e per l'equipe che collabora con me fare svolgere questa funzione nelle scuole perché finalmente usciamo dai nostri reparti ospedalieri e andiamo incontro alla popolazione. I bambini della terza elementare sono sicuramente un campione di popolazione molto importante. Diciamo che questo progetto avrà una durata di tre anni. Per adesso abbiamo iniziato con le terze elementari e poi probabilmente nel corso d'opera amplieremo la base di visite anche ad altre classi e quindi un altro gruppo di popolazione. Ci sono tutta una serie di presidi che noi abbiamo utilizzato per effettuare questo tipo di rilevazione. sono dei presidi che riguardano l'informazione e abbiamo fatto stampare degli opuscoli che verranno consegnati ai genitori e ai bambini. Inoltre faremo delle lezioni in classe. Diciamo che abbiamo l'insieme di tutte quelle che sono le metodiche più moderne che riguardano la prevenzione. utilizziamo degli indici che sono riconosciuti dal punto di vista internazionale quindi riteniamo di poter avere una fotografia della popolazione dei problemi odontoiatrici della popolazione dei bambini di seati che sono molto importanti anche per poter applicare ulteriori metodiche ma questo sarà oggetto del proseguo del nostro piano.